La delibera fortemente voluta dallo stesso sindaco Ferrara riguardante il rinnovo della convenzione di condivisione con il comune di Torrevecchio e Teatina dello stesso segretario generale nel comune di Chieti fino al giugno 2024 crea forti imbarazzi nella maggioranza di centro-sinistra e nei rapporti con il sindaco Ferrara. Bastava che il sindaco leggesse gli esiti della commissione e delle due riunioni capigruppo in cui tutti i capigruppo, maggioranza e opposizione avevano chiesto il ritiro di questo provvedimento che mancava visibilmente di molte cose formali. Lui ha insistito, il capogruppo Ginefra ha chiesto l'inversione dell'ordine del giorno, lui ha insistito di volerlo invece trattare come primo punto, si è andata a votazione. L'intera maggioranza ed esclusione del suo voto e di tre consiglieri ha optato per la trattazione di questo argomento, sono andati in discussione. In discussione il consigliere comunale di primio di maggioranza ha dato le vere motivazioni, le reali motivazioni cercando di far capire al sindaco che non andava bene questo atto per motivi finanziari, per motivi di opportunità, per mancanza di tre dirigenti al comune di Chieti. Per cui il segretario deve assolutamente fungere anche da dirigente e il sindaco a quel punto ha dovuto ritirare l'atto. Voi parlate di un sindaco commissariato e chiedete anche un passo indietro, magari anche le dimissioni del primo cittadino. E' chiaro che la minoranza può solo chiedere le dimissioni del sindaco, il sindaco è scivolato su un pisello, non su una buccia di banana, ha fatto il suo primo grande scivolamento in questa sua amministrazione ed è stato di fatto commissariato politicamente in aula perché si è dimostrato che se ci sono atti forzati qualcuno della maggioranza comincia a capire che non vanno bene gli atti e quindi non può il sindaco portare avanti cose che sono inapprovabili.